La decisione dell'avvocato Francesco Di Feo di candidarsi alla regione e le sue conseguenti dimissioni da sindaco di Trinitapoli, che quindi tornerà alle urne il 20 e il 21 settembre, devono aver sparigliato carte e progetti nel suo stesso partito, provocando un certo nervosismo. Di Feo ha annunciato la sua candidatura, ovviamente in Fratelli d'Italia, avendo concordato il tutto e ricevendo assicurazioni e via libera dai vertici regionali. Della cosa non è apparso convinto il segretario provinciale Raimondo Lima, anche egli in procinto, di candidarsi alle regionali. Lima, prima informalmente, poi con un post su Facebook, ha contestato a Di Feo la certezza di un posto in lista. In riferimento a potenziali candidature in seno alla lista Fratelli d'Italia della BAT, ha scritto Lima, emerse da servizi televisivi, si precisa che nessuna candidatura è ancora ufficiale. Il partito regionale sta avvaliando tutte le disponibilità in campo ed è alle prese con la composizione di una lista forte e rappresentativa delle migliori espressioni del territorio. Il posto è stato pubblicato un paio di ore dopo l'annuncio della candidatura fatta da Di Feo, che ha ribadito l'interlocuzione con i vertici regionali e il via libera prima della difficile scelta di rinunciare a un anno da sindaco e guida della sua città e che, conseguentemente, non c'è alcun dubbio di un posto nella lista di Fratelli d'Italia, escludendo ogni ipotesi di una candidatura in una delle civiche del presidente. Lima, qualche ora dopo il posto sulla pagina Facebook di Fratelli d'Italia, ne ha scritto un altro sulla sua. L'attività politica e le candidature non si improvvisano, si costruiscono nel tempo. E qui, diciamo noi, chi vuole intendere, intenda. Volendo dare una lettura politica della cosa della scelta fatta da Di Feo, sarà soddisfatto l'altro candidato in Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, consigliere regionale uscente, entrato nel partito quando c'è stata la fusione con Direzione Italia. Ventola, che potrà contare sul totale sostegno della sua componente, dovrebbe essere doppiamente contento, sia perché la lista con Di Feo si rafforza e accresce la possibilità di essere la prima della coalizione nella batte, sia perché la componente originaria di Fratelli d'Italia, dividendosi tra Lima e Di Feo, gli darà meno preoccupazioni. A tal proposito, ieri nel corso della nostra trasmissione Spazio-Città, Di Feo non è escluso che possa essere proprio Lima a fare un passo indietro. Al di là dei sofismi e del politichese e delle patetiche lavate di faccia, la lista, come abbiamo già riportato, dovrebbe essere composta da Francesco Ventola, Francesco Di Feo, Raimondo Lima, Tonia Spine e una donna di Andrea. Vedremo se tutto ciò sarà confermato. Di certo, in questi passaggi, più che Fratelli d'Italia, potremmo definirli Fratelli Coltelli.